Musica Cari amici, il più cordiale buongiorno a tutti voi, ben ritrovati, una nuova puntata di Mattina Sud. Avete già preso il caffè, lo avete fatto con il collega Fabrizio Caglianiello durante la nostra lunga fascia di approfondimento delle notizie tra giornali e servizi. Se non l'avete ancora fatto potete prenderlo con noi. In realtà c'è anche tempo per qualche biscottino per mettervi comodi, ve lo consiglio perché oggi abbiamo tanti temi da affrontare insieme. Lo sapete, le ultime notizie, i collegamenti con il territorio in diretta, tutte le novità di questa mattinata, ma anche delle belle storie che come sempre abbiamo selezionato per voi. Partiremo da una storia proprio di un grottagliese, di un pugliese che per la prima volta, pensate, nella storia di questo premio, arriva a ritirare in America un premio che riguarda il marketing, ma non vi svelo altro. E poi invece ci sposteremo sul fronte del G7 a Fasano. Lo sapete, c'è grande attesa, noi abbiamo raccolto le voci delle istituzioni, dei cittadini, ma Fasano è pronta ad accogliere i capi del mondo, potremmo dire i numeri uno che provengono da diversi paesi. Beh, ce lo spiegherà meglio in studio anche il primo cittadino di Fasano. E poi ci collegheremo con Bari, come sapete quella di oggi è la giornata del grande sciopero generale indetto da CGL e Will. Ascolteremo proprio le voci dei sindacalisti, della gente, dei lavoratori. Questa manovra non convince in particolare questi due sindacati su più fronti, dalle pensioni al trattamento dei giovani, il salario minimo e non soltanto. Poi andremo a Manfredonia dove nasce la prima comunità riabilitativa assistenziale per ciò che concerne la psichiatria. Una bella parentesi, un bel momento, lo vivremo circa a metà della trasmissione quando ci raggiungeranno nei nostri studi gli studenti di un istituto superiore di Francavilla Fontana, oggi ospiti del nostro centro di produzione televisivo, conosceranno i nostri giornalisti, impareranno anche qualche regola, qualche segreto del mestiere, non solo giornalistico ma anche tecnico della nostra regia con i nostri tecnici e non soltanto. E poi ci collegheremo come sempre con Radio Antenna Sud, la collega Claudia Turba ci fornirà una serie di consigli per gli appuntamenti da seguire nel weekend. Torneremo poi seri per un tema che sta facendo molto discutere, si è fatta notare la presenza dei monaci buddhisti che sono in pellegrinaggio in Puglia e ci collegheremo per farlo con la collega Anna Saponaro in diretta da Brindisi e poi dal Medio Oriente la toccante e particolare testimonianza che abbiamo raccolto per voi di una pugliese. Ma cominciamo subito, vado a salutare il nostro primo ospite Giovanni Luca Cascio Rizzo. Buongiorno, un ricercatore italiano in particolare dell'Università Luis Guido Carli di Roma. Perché lo abbiamo invitato questa mattina qui a Mattina Sud? Beh, dovete sapere che lui ha 31 anni, è un grattagliese doc ma soprattutto è il primo italiano nella storia a vincere il prestigioso premio AMA Racing Star 2023-2024. Che cosa significa AMA? Beh, è un acronimo dell'American Marketing Association, la più importante associazione americana per professionisti del marketing che nel mondo vanta oltre 45.000 membri. Da qualche giorno è arrivata la comunicazione ufficiale, ritirerai il premio se non sbaglio proprio a gennaio, è vero? Sì, ritiro il premio a gennaio, in realtà ci sono due round di premiazione, il primo sarà a gennaio in Florida e il secondo sarà invece a maggio a Vienna, quindi in territorio europeo. Quindi lì ci sarà il passaggio fisico del premio. Il marketing è senza dubbio una colonna al giorno d'oggi della nostra comunicazione, non soltanto per le grandi aziende, le istituzioni, i politici, i medici, ma per una figura che è abbastanza recente ma a quanto pare anche molto remunerativa, da cui il grande interesse anche dei professionisti a legarsi a questa fetta dell'economia. Parlo degli influencer, tu ti occupi anche di questo quotidianamente? Sì esatto, la mia ricerca in generale è sulle dinamiche di influenza sociale, quindi in particolare come il linguaggio viene utilizzato per influenzare le altre persone. Un campo applicativo è proprio questo, quello dell'influencer marketing, di fatti sono più anni che ho una partnership con una grande agenzia di influencer marketing e quindi ciò che studio è come gli influencer comunicano sui social media tramite sia le parole, quindi le specifiche parole che utilizzano nelle caption e post, ma anche il modo in cui comunicano tramite le vocal cues, quindi il modo di comunicare. Oggi più che mai ogni parola che scriviamo sui nostri social o pronunciamo diventa importante, ce l'ha insegnato, correggimi se sbaglio, anche semplicemente l'utilizzo delle storie sui social e dei reel che ci impongono dei tempi assolutamente rapidi, ancora più della televisione che per Antonomasi era quel mezzo dai tempi tirannici, no? E quindi è importante condensare in pochi minuti il messaggio e arrivare subito al dunque, molto spesso anche per attrarre un cliente, per raggiungere un obiettivo specifico. Sì, assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Se volessimo mappare il mondo di oggi noi abbiamo due assi di ordinate, abbiamo il tempo che è sempre meno, quindi i consumatori hanno sempre meno tempo per prendere una decisione e decisioni che sono sempre di più, quindi c'è sempre un ventaglio grandissimo di possibili scelte ed ecco perché bisogna comunicare nel meno tempo possibile, nel modo più efficace possibile. Giovanni Luca, lo vedete, è giovanissimo ma è già un grande esperto, non a caso è arrivato questo premio. Che significa Rising Star? Beh, semplicemente astronascente. Si tratta del riconoscimento assegnato dall'American Marketing Association ai migliori talenti emergenti che nella ricerca del settore del marketing si sono distinti dimostrando una straordinaria combinazione di rigore scientifico, rilevanza delle scoperte e innovazione, lo leggo testualmente proprio come viene descritto. La tua storia è molto affascinante perché tu arrivi a Roma per studiare e laurearti proprio in questo campo alla Guido Carli ma poi resti con il primo obiettivo e tentativo di insegnare ma poi viene affascinato dalla ricerca, infatti attualmente sei un ricercatore. Sì, assolutamente. Io ho iniziato il mio percorso di dottorato perché volevo insegnare, avevo questa passione per l'insegnamento. Per un certo punto mi sono detto per insegnare ho bisogno di imparare e quindi il miglior modo di imparare oggigiorno è iniziare un percorso di dottorato. Quindi mi sono iscritto al dottorato, al Luis Guido Carli, sto proseguendo ora gli studi tra Italia e Olanda e presto appunto volerò oltreoceano per una cattedra. Ecco, questa è proprio la prossima domanda che ti avrei fatto perché oltre a ritirare un premio oltreoceano prenderai proprio una cattedra, si tratta della University of Southern California di Los Angeles, assumerai l'incarico di professore di marketing. Insomma una doppia soddisfazione, intanto il primo italiano a ricevere questo premio ma anche un lavoro oltreoceano che ti aspetta, di assoluto prestigio con una platea di ragazzi che sicuramente sono anche molto motivati a studiare e a sfondare in questo settore. Non voglio metterti ansia ma ti senti un po' questa responsabilità sulle spalle. Assolutamente, poi diciamo questa università è una delle più prestigiose al mondo, io questi due o tre mesi sono stati abbastanza diciamo movimentati perché ho ricevuto diverse offerte da Parigi, dall'Olanda. Lo immaginiamo, non abbiamo difficoltà. Quindi a un certo punto mi sono trovato lì con questa responsabilità di dover scegliere. Chiaramente ho scelto Los Angeles perché l'università appunto è prestigiosa, i ragazzi come dicevi tu sono assolutamente motivati quindi è una grande responsabilità. Doppia responsabilità, uno perché essendo il primo italiano a aver ricevuto il premio le aspettative sono alte. Seconda cosa è che andando lì i ragazzi anche si aspettano tanto da te come professore. In questi giorni sei a Grottaglie, nella tua città natale, la bellissima città delle ceramiche in provincia di Taranto. Posso chiederti che ti hanno detto gli amici di scuola, i parenti? Beh sì, tutti gli amici e i parenti, soprattutto i genitori sono particolarmente diciamo emozionati. Che cosa ti chiedono? Come ti senti ad aver vinto questo premio e cosa ti aspetta anche dopo? Perché ti prepari di fatto ad un cambio vita, se il lavoro bene o male resta lo stesso con un upgrade importante evidentemente, però cambi città, cambi nazione, non sarà così facile. Sì, non è così facile. Però ti vedo sereno. No, sono abbastanza sereno perché in realtà la mia vita è stata un po' volatile da questo punto di vista, io ho un passato come violoncellista, quindi come violoncellista mi sono spostato a Roma, da Roma al Giappone, poi sono stato spesso in giro, ora sono rientrato proprio un mese fa dall'Olanda, quindi non mi spaventa andare in un paese straniero, però sicuramente è una grande emozione. Ecco, qualcuno a casa potrebbe chiedersi come ti hanno conosciuto oltreoceano. Beh, è facile, lui ha pubblicato le sue ricerche sulla dinamica delle influenze sociali, studi che hanno dato nuova luce anche al ruolo del linguaggio della comunicazione digitale, pubblicati dove, beh, su prestigiose riviste accademiche a stelle strisce, appunto Journal of Consumer Research e poi il Journal of Marketing e in particolare Joan Berger che è professore dell'Università Wharton in Pennsylvania e advisor di Giovanni Luca Casciorizzo, ti definisce ricercatore italiano diamante nel mondo accademico, insomma, belle parole. Bellissime parole ed è anche un grandissimo onore perché Joan Berger è probabilmente la superstar nel marketing, autore di best seller e ho avuto il piacere e la fortuna di conoscerlo qualche anno fa e di riuscire a coinvolgerlo sulla mia ricerca che non è per nulla scontato. Da lì ho iniziato una collaborazione, abbiamo tantissimi articoli insieme, collaboriamo giornalmente insieme e quindi sentire da lui quelle parole è una grande emozione, sicuramente. E allora, tra poco torno a te, intanto vorrei capire con l'ausilio della nostra regia se è pronta a collegarsi con noi la collega Antonella Fazio che sta seguendo i lavori della grande mobilitazione di carattura nazionale programmata per la giornata di oggi da CGL e Willi. Allora, visto che è pronta, Antonella vengo subito da te qualche minuto per capire cosa sta accadendo a Bari dove oltretutto io so già dalle scorse ore c'era una certa preoccupazione rispetto ai possibili disagi nei servizi di trasporto pubblico, raccolta dei rifiuti e anche chiusura degli uffici al pubblico. Antonella, buongiorno. Antonella, mi senti? Buongiorno. Allora, è pronta Antonella Fazio? Eccola qui. E allora, vorrei sapere, non so se hai sentito la domanda, che aria tira? C'è la preoccupazione a Bari rispetto a possibili disagi per servizi del trasporto pubblico, raccolta dei rifiuti e chiusura degli uffici pubblici al pubblico, appunto. Come sta prendendo le mosse questa protesta e questa mobilitazione di oggi? Buongiorno Gianmarco, mi senti? Sì, benissimo. A te. Io avevo problemi di studio, non avevo un ritorno, abbiamo risolto prontamente col nostro Michele Marchitelli, invece adesso siamo qui in piazza Massari proprio per parlare una di quelle 60 piazze che questa mattina parleranno, terranno quindi un comizio per lo sciopero con me qui alla mia destra. È uno sciopero nazionale indetto su una piattaforma, ma indetto da CGL e UIL si è dissociata la CISL da questo sciopero con me alla mia destra, dicevo, il segretario regionale della UIL Gianni Ricci. Buongiorno segretario, allora siamo scesi in piazza, che adesione c'è? Beh, l'adesione è altissima, anche e nonostante le intenzioni di questo governo di precettarci, noi siamo qui, Salvini, precetti questa piazza, precetti i lavoratori che stanno pagando ancora una volta il prezzo di una manovra e che pagheranno il prezzo di una manovra sbagliata, le nostre rivendicazioni, lo dicevi bene, vengono fuori da una piattaforma unitaria che già da diversi anni riproponiamo ogni volta ai governi, nonostante ci siano stati governi diversi, la nostra posizione non è mai cambiata su questo, perché abbiamo la necessità in questo paese di ridare potere d'acquisto ai salari, i soliti a pagare sono i lavoratori dipendenti, i pensionati, non c'è un'idea di sviluppo di questo paese, nulla si fa per i giovani. Quali sono le categorie che questa mattina sono qui? Stamattina abbiamo la categoria del pubblico impiego, dell'FPL, la scuola, i trasporti, i servizi, le lavanderie industriali, sono tutti qui in piazza, perché abbiamo la necessità di far capire che questo è il paese, e non quello che ci raccontano. 6,7 milioni di lavoratori che non vedono gli stipendi aumentati ormai da anni, vero segretario. 3 miliardi per gli aumenti contrattuali del pubblico sono una risorsa insufficiente, quei 3 miliardi serviranno per pagare gli aumenti delle spese, gli aumenti dei costi energetici, nulla c'è sui rinnovi contrattuali, è solo propaganda. Altorella, devo richiederti la linea a qualche istante, ma tra poco torno da te perché so che hai altro da proporci e soprattutto farci vedere anche questa piazza che vedo pienissima di bandiere, ma anche di gente che hanno tante cose da dirti al microfono. Grazie, torno tra poco da te, intanto torniamo in studio perché io voglio salutare e ringraziare il nostro primo ospite di questa mattina, Giovanni Luca Casciurizio, ricercatore, prossimo docente Pugliese Doc, Grottagliese Doc, esportato negli Stati Uniti, ma con grande soddisfazione, io ti ringrazio e naturalmente ti auguro un buon lavoro. E allora tra poco entrerà il sindaco di Fasano, parleremo del G7, c'è grande aspettativa, grande attesa nella città di Fasano, ma anche nei dintorni, lo vedremo dai servizi che abbiamo realizzato con delle schede, la voce della gente. Intanto torno, come promesso da Antonella Fazio, vorrei vedere con te la piazza, vediamo un po' che cosa succede questa mattina a Bari, ma come sapete si tratta di una protesta nazionale. Sì, Gianmarco, con il nostro Paolo Scicutella adesso ti facciamo vedere Piazza Massari, come dicevo prima, una delle 60 piazze italiane nel quale si sta manifestando questa mattina. L'hai sentito dalle parole del segretario Gianni Ricci, il segretario regionale della Will Puglia, c'è una massiccia adessione a questa manifestazione. Tra l'altro, Gianmarco, io spero che tu riesca a vedere la piazza dalle immagini del nostro Paolo Scicutella. Tra l'altro, Gianmarco, questa mattina in concomitanza con lo sciopero, proprio va detto, questo, sicuramente non è un caso, c'è il Ministro per i Trasporti, Matteo Salvini, che sta arrivando qui a Bari perché terrà una manifestazione al POCTO di Bari, al Terminal Crociere, terrà una manifestazione per parlare delle infrastrutture in Italia e in Puglia, quindi gli investimenti, una roba organizzata non politica ma istituzionale, una roba organizzata come dicevo, dal Ministero, quindi dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Pertanto, a breve, una delegazione di questa manifestazione da Piazza Massari si sposterà all'ingresso del porto proprio per manifestare contro la manovra del governo manifestandola al Vice Premier Matteo Salvini, che tra l'altro, ricordiamolo, nei giorni scorsi ha precettato questo sciopero, facendo in modo che diventasse da 8 ore diventasse di 4 ore. Allora Gianmarco, io se posso ti restituirei un attimo la linea e vado a recuperare la segretaria della CGL Puglia, Gigi Abucci, che vedo se nel frattempo è arrivata, o il segretario della CGL Bari, Domenico Ficco, e ti richiederò la linea, va bene? Perfetto, grazie Antonella, tra poco torneremo da te. Oggi avremo una telecamera per lungo tempo in questa manifestazione, intanto per farvi ascoltare le voci, ma anche per capire come si evolve questa mattinata. Bari è soltanto un esempio, ci sono 60 piazze, lo avete ascoltato, e più in generale, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi a Roma, anche si sta protestando, si sta scioperando per questi temi, con le novità e le precisazioni che ci faceva anche Antonella Fazio, che fanno riferimento proprio alle ultime ore. Intanto saluto e ringrazio Francesco Zaccaria, primo cittadino di Fasano, benvenuto e bentornato in realtà da Antenna Sud. Grazie a voi per l'invito. E allora, lo abbiamo detto in apertura di questa puntata, c'è grande attesa a Fasano, ma anche nei dintorni, in Puglia più in generale, per il G7 che vi aspetta. Lei ha spiegato che vi state dando molto da fare in effetti in queste settimane. Sì, sono partiti ovviamente preparativi che ci verranno impegnati per cinque mesi, saranno ovviamente preparativi molto intensi, saranno come dei mesi in cui si lavorerà molto, in un contesto istituzionale che non c'è proprio, perché chiaramente il confronto è con le istituzioni nazionali e internazionali, però sono certo che ci faremo trovare pronti, perché così come ho detto, mi piace dire, vorrei che Fasano per tre giorni dimostrasse di poter essere la capitale del mondo. Ecco, qualcuno ha mosso qualche dubbio, ma mi viene da pensare che se la Premier Meloni arriva in estate addirittura con probabilmente la scusa di una vacanza, anche per monitorare la situazione, guardare, poi sceglie definitivamente un resort, ma più in generale il territorio, un motivo c'è. La Puglia è pronta e soprattutto, non so se lei condivide questa mia riflessione, sempre di più la Puglia è protagonista di questo tipo di eventi. Probabilmente c'è l'idea da parte delle istituzioni nazionali di promuovere anche questa parte d'Italia. Che ne pensa? Allora, le motivazioni sono ovviamente difficili da, come dire, valutare, ma io posso parlare di quello che conosco bene, cioè di questo comprensorio che negli ultimi 25 anni ha cambiato il proprio aspetto, ha cambiato la propria capacità di manifestarsi al mondo. Nel comprensorio che abbraccia il territorio che va da Polignano a Carovigno si raggruppano circa il 25% delle presenze turistiche di tutta la Puglia. Pensate, un numero altissimo. E questo ovviamente non accade per caso, ma accade perché vent'anni fa, da vent'anni e in costanza ovviamente di lavori, si è scelto di indirizzare lo sviluppo turistico in una determinata direzione. Si è lavorato anche molto, si è investito. Si è investito molto, si è dato la possibilità agli imprenditori di investire rispettando soprattutto il paesaggio e le bellezze naturali che ci circondano, che sono una delle ragioni per le quali poi i turisti rimangono incantati. E coniugare i due aspetti, cioè sviluppo turistico che significano opere innanzitutto e il paesaggio è stata secondo me l'arma vincente che oggi ci consente di poter candidare il nostro comprensorio non soltanto per il G7 ma per tutti gli eventi che in questi mesi avete commentato. Ecco, per farci un'idea più chiara noi abbiamo anche preparato un servizio, l'ha fatto il collega Ottavio Cristofaro che ci riassume un po' la situazione. Poi vi daremo anche degli aggiornamenti nel corso della puntata. Guardate. Alle mie spalle un paesaggio mozzafiato che è possibile ammirare soltanto qui dalla selva di Fasano ed è proprio qui che i grandi della terra si incontreranno in un territorio che affaccia tra il Mar Adriatico e la Valle d'Itria. Noi siamo andati a Fasano ad ascoltare cosa ne pensano i cittadini. Lo sapete che ci sarà il G7 a Borgo Ignazia? Sì. Cosa ne pensate del G7? E' una cosa importante per tutti, almeno se fanno le cose come dovrebbero farle. Ma secondo me dopo gli anni passati, ciò che abbiamo vissuto anche in questi anni col Covid, secondo me anche questo G7 potrebbe far aumentare la già molta popolazione turistica. Non so se Fasano è pronta per gestire il G7, sinceramente. Cosa ne penso? Che piuttosto che organizzare queste cose, dovrebbero fare delle cose per le persone, secondo me. Penso che sia una cosa positiva comunque, almeno per la pubblicità del territorio. Penso che sia una cosa positiva. Ma diciamo una cosa positiva anche per il Paese, insomma, che c'è questa grande manifestazione, voglio dire. E quindi è un piacere immenso vedere l'evolversi. Non lo so se è una cosa buona, non lo so di spiegare, non lo so. Penso che sia una cosa buona, ma anche qualcosa di economia che girerà un po' l'economia. Che facesse una proposta al signor Putin e aprire un nuovo capitolo di pace. Importante anche per noi di Fasano, perché comunque porterà anche, ci farà conoscere. Il 10 agosto del 2000, ero assessore all'urbanistica di Fasano, portiamo in Consiglio Comunale 32 varianti puntuali al piano regolatore. Furono approvate tutte all'unanimità e la maggior parte sono i resort che si vedono adesso. Ovviamente a cominciare da Borgo e Ignazia. Quindi quel giorno, anche un po' nell'inconsapevolezza, facemmo una cosa che dopo 23 anni significa G7, cioè uno degli eventi più importanti del mondo. Quindi Fasano diventa il centro del globo. Noi ci siamo ospiti a Borgo e Ignazia che dormono in Maggiro. Però G7 sarà a Lecce. Ah sì. Quindi sarà a Lecce? Esatto. No a Borgo e Ignazia, non in Valle d'Itrea. Non in Valle d'Itrea, non in Valle d'Itrea. A Nel Salento il G7. A Nel Salento. Ok? Insomma Sindaco, tra poco arriviamo anche alle valutazioni più squisitamente politiche. Abbiamo anche raccolto la voce di un consigliere regionale, mi riferisco a Fabiano Amati. Ma intanto, se lei è d'accordo, partirei dalla voce dell'agente comune. Magari anche chi non ne sa nulla di questo G7, probabilmente accolto nel segno. E cioè, hanno detto forse impropriamente, girerà l'economia. Beh, di fatto questo è uno degli eventi, a tutti gli effetti, più importanti al mondo in un anno. E quindi sicuramente ci sarà un rinnovato interesse verso la sua città e il territorio, questo comprensorio che lei citava, che non ha bisogno di pubblicità perché il turismo qui la fa da padrona. Però, sicuramente, sono eventi che concretamente servono anche al tessuto economico. Sì, sono eventi che daranno, oltre alla visibilità planetaria che ci aspettiamo e che è tipica di questi eventi, è chiaro che darà anche la possibilità di rinnovare un po' alcune infrastrutture. Questo è innegabile, questo è già accaduto in gli altri eventi, gli altri G7 che si sono tenuti, anche G20, che si sono tenuti nel nostro territorio. È ovviamente una delle componenti, perché ospitare a livelli altissimi le istituzioni provenienti da tutto il mondo, i grandi del mondo, perché parliamo dei sette capi di Stato più importanti del mondo, necessita ovviamente di infrastrutture rinnovate, di servizi che devono funzionare in maniera ineccepibile, di sicurezza ad altissimi livelli e questo compone un quadro che da sempre funziona nello stesso modo e quindi anche nel prossimo G7 del 13-15 giugno 2024 funzionerà allo stesso modo. Quindi noi lavoreremo anche per rinnovare le infrastrutture che, devo dire, sono un po' la difficoltà principale per un sindaco come il sindaco di Fasano che deve cercare di mantenere un livello di qualità altissimo perché le strutture che sono presenti a Fasano, ed è la ragione per la quale il G7 si svolgerà a Fasano, sono 5 stelle lusso, moltissime, e quindi il turista che vive quel contesto magari si aspetta di trovare un contesto anche all'esterno così ineccepibile, così inappuntabile. In realtà non è così perché i soldi che i sindaci hanno a disposizione non sono tantissimi e quindi c'è questa difficoltà che noi cercheremo e cerchiamo di colmare sempre, ma non è semplice. Insomma questa è una buona notizia e noi le auguriamo veramente buon lavoro, ma non abbiamo terminato l'argomento e voglio farle qualche altra domanda tra poco. Intanto le chiedo una piccola parentesi perché ci chiede la linea Antonella Fazio da Bari, mi sembra essere in compagnia di uno dei segretari sindacali. Antonella? Sì, 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 Gianmarco, siamo con il segretario della CGL Bari, Domenico Fitto, che sarà alla testa di questo mini corteo, diciamo così, in realtà si muovono in pullman, l'ho appena scoperto, per arrivare da qui al porto di Bari, tra l'altro sono pochissime centinaia di metri, perché lì, come dicevamo prima, Gianmarco, arriverà il vice premier Matteo Salvini, che diciamo che su queste manifestazioni, su questo sciopero ha detto parecchio, ha detto del suo. Eh sì. Beh certo, il ministro Salvini, il vice presidente del Consiglio, ha provato a limitare, a mettere un bavaglio al movimento dei lavoratori, limitando il diritto di sciopero, trasformando quello che è il legittimo diritto di manifestare un dissenso in una bagarre politica che francamente non serve assolutamente. Tra l'altro utilizzando anche strumentalmente la commissione di garanzia con esponenti nominati da questo governo, commissione di garanzia che nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, non ha mai, è stata assolutamente silente rispetto ai tanti scioperi generali e anche proclamati dai sindacati autonomi. Fa tutta questa polemica anche con dei toni assolutamente provocatori, per cui noi rispediamo al mittente le sue provocazioni. Come la legge questa presenza di Salvini qua a Bari questa mattina? La presenza di Salvini qui a Bari questa mattina immagino sia una presenza già programmata da tempo. Lui presenta questo programma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha il nome L'Italia dei Sì. Antonella! Sarebbe comico se invece non fosse tragico il fatto che lui titola questa iniziativa L'Italia dei Sì e poi invece dice no a CGL e Will che chiedono di esercitare un diritto costituzionale. Quello è l'articolo 40, il diritto di sciopero, che abbiamo sempre esercitato nel rispetto della legge perché noi siamo ossequiosi della Costituzione, stiamo portando simbolicamente una Costituzione tascabile al Ministro Salvini qualora lo avesse sbarretto. Antonella! Dimmi Gianmarco! Ecco, volevo fare una riflessione con il tuo ospite. Proprio ai microfoni di Antenna Sud, dalla Capitale, nei giorni scorsi, Francesco Manigrasso ha raccolto delle opinioni non proprio leggerissime. molti dei parlamentari del centro-destra hanno detto chiaramente attenzione perché quando il PD chiama i sindacati e la CGL in primo piano sono pronti a fare da stampella. Che ne pensa il tuo ospite? Allora, dallo studio Gianmarco Sansolino fa notare come molti esponenti della maggioranza abbiano definito stampella la CGL nei confronti del centro-sinistra, del PD, ovvero quando la politica chiama la CGL è sempre pronta a scendere in piazza. Lei come vede questa dichiarazione di esponenti del centro-destra? Beh, la CGL mai stampella, al massimo traino, da sempre. Quando c'è stato il vuoto della politica, la CGL ha occupato quel vuoto e per fortuna che c'è stata la CGL. Oggi, grazie al nostro movimento di mobilitazione che ha provato ad allargare anche la partecipazione a tante associazioni, a tanti cittadini e cittadini, probabilmente le nostre parole d'ordine sono ritornate ad essere le parole d'ordine della politica. Quindi assolutamente mai stampella la CGL. La mancanza della CISL, eppure, come dicevamo prima con Gianni Ricci della Will, questa manifestazione si basa su una piattaforma unitaria, una piattaforma unitaria redatta qualche tempo fa, ormai già da anni, durante il governo Draghi, però qui e oggi in piazza la CISL non c'è. Assolutamente sì, soprattutto sul lavoro, fisco, previdenza, avevamo delle piattaforme unitarie, CGL, CISL e Will. Siamo andati avanti insieme, anche nei mesi scorsi, nel percorso di mobilitazione e di rivendicazione di un tavolo vero di confronto con il governo su quei temi. Le risposte non ci sono state, a un certo punto la CISL ha deciso di virare, ha deciso di fare un'altra tipologia di scelta, ha deciso di adottare un altro modello di sindacale su cui francamente si rinuncia al diritto alla protesta, al diritto alla mobilitazione, al diritto a esprimere al dissenso in virtù di una fantomatica partecipazione dei lavoratori. Fa un po' sponda al governo. Fa un po' sponda al governo sicuramente, ma credo che questa piazza e anche le piazze successive saranno la risposta rispetto a quella che è la scelta adeguata. Oggi qui in piazza abbiamo anche tantissime bandiere di sindacati autonomi che hanno deciso di aderire a questo sciopero. Credo che questa sia la risposta vera rispetto alle esigenze di cittadini e cittadini. Grazie al segretario della CGL Bari, Domenico Fitto, io la lascio alla sua protesta davanti al porto. Grazie. Gianmarco, se non ci sono domande da studio io ti restituirei la linea. Questa è Piazza Massari, questa mattina a Bari, in tantissimi sono arrivati, tra poco ci saranno anche i comizi di lo stesso Gianni Ricci che abbiamo sentito prima della Will Puglia, arriverà anche Gigi Abucci, la segretaria della CGL Puglia. Insomma, ulteriori informazioni in merito a questo sciopero ovviamente ci saranno durante le edizioni del nostro telegiornale. Bene. Gianmarco, ti restituisci la linea. Grazie Antonella, noi compatibilmente con il lavoro della troupe lì sul posto da te guidata magari ascolteremo anche qualche live degli interventi che come al solito restituisce sempre qualcosa in più rispetto al clima che si vive nella mattinata. Abbiamo qualche istante di pubblicità, tra poco torniamo in studio, continuiamo a parlare di Fasano, del G7 ma anche di tanto altro perché questa è una perla anche della nostra Puglia e quindi vorrei concludere in bellezza perché c'è anche tanto di bello da dire e da sottolineare. A dopo. Torniamo in diretta con Mattina Sud, siamo alla seconda parte e ancora qui nei nostri studi l'ospite Francesco Zaccaria, Sindaco di Fasano. Abbiamo iniziato la nostra conversazione parlando del G7 ma nel frattempo, Sindaco, ci siamo affacciati anche alle proteste in corso di svolgimento anche a Bari nel nostro capoluogo regionale e voglio chiederle che idea si è fatto rispetto a questa protesta nella quale i bordi sono un po' sfumati rispetto ai temi, diversamente da altre occasioni non c'è un tema specifico o un problema che viene contestato ma più in generale come anticipavo si parla genericamente della manovra quindi dalle pensioni ai giovani passando per il salario minimo e poi una serie di altre misure che di fatto non tengono contenti questi due sindacati CGL e Will perché lo voglio ribadire, lo ha detto anche la collega, la Cisle si è sfilata dalla protesta, la sua idea Sindaco? Ma io osservando e ascoltando mi sono fatto un'idea, diciamo, è chiaro che come giustamente sottolineavi non c'è un tema ben focalizzato e quando si sciopera bisognerebbe invece essere molto chiari perché la credibilità dell'astensione dal lavoro che viene pagata dai lavoratori, questo è importante anche dirlo, deve essere chiara e perché insomma per essere credibili e per raccogliere anche quello che è il dissenso che a volte è legittimo. Io mi chiedo tuttavia se è stata fatta questa riflessione e se prima di scioperare si sia avuto un confronto sui temi veri. Io se fossi nei sindacati sciopererei ad esempio per il Sud sul mancato arrivo dei fondi FSC, sono un fatto incontestabile, incontrovertibile, i soldi servono anche al trasporto e quindi avere queste risorse è fondamentale. Quello sarebbe un tema chiaro, preciso, incontrovertibile che bisognerebbe discutere, potremmo discutere dei giochi nel Mediterraneo, anche lì c'è un ritardo, un'attesa, un'aspettativa molto importante per riqualificare una città importante come Taranto. Ci sono tanti temi, quando si sciopera e si crea quindi un disagio soprattutto nei trasporti che sono come dire da sempre un problema per l'Italia in generale, bisogna essere molto chiari. Io tuttavia prima di comprimere il diritto di sciopero avrei in qualche modo accettato un confronto visaperto con i manifestanti perché poi parlandosi molte volte e questa è una caratteristica dei sindaci si riesce a trovare la soluzione. Beh è chiaro che siamo a due livelli politici diversi, perché dico questo? Perché il governo si deve occupare di macro temi, invece il sindaco mi piace dire è un politico di prossimità, quindi c'è un problema concreto, il cittadino viene, quando è possibile si risolve anche in maniera rapida, chiaramente questa è una semplificazione, fate tanto altro, però di base questo è che vi contraddistingue rispetto a parlamentari, senatori che possono solo proporre ad esempio la discussione di una legge, di un disegno, però poi non hanno quel potere concreto che invece i sindaci hanno. Ecco, tornerei anche alle parole del consigliere regionale Amati che abbiamo intervistato che osservava sulla linea di quello che lei diceva, attenzione, vent'anni fa noi abbiamo dato la possibilità come enti pubblici a quei resort, a quegli enti privati di nascere e oggi sono anche una delle nostre ricchezze in effetti, d'altronde Bolognazia, molti lo chiamano noi il resort dei VIP, di fatto è così, sappiamo che Madonna da una vita viene a trovarvi, viene a fare il bagno nei vostri mari, ma soprattutto soggiorna dalle nostre parti. Sì, diceva bene il consigliere Amati, queste scelte non sono il frutto di una improvvisazione di un caso, la scelta di invertire la rotta rispetto a quello che stava accadendo in quegli anni, si parla degli anni del contrabbando, era forte e quindi se oggi siamo qui a commentare il G7 è perché la politica in quell'occasione ha deciso da quel momento in poi di dare una vocazione precisa, economica al turismo della nostra terra e oggi se parliamo di questi eventi è per questa ragione. I VIP che citavi sono una conseguenza della possibilità di accogliere questa recittività, chiamiamola di alta gamma, alto spendente, di lusso, poi le definizioni sono mille, che è nata appunto da un'intuizione di alcuni imprenditori che ancora oggi sono e operano nel nostro territorio e che hanno attirato anche altri imprenditori che ci danno la possibilità di dare lusso al nostro territorio, di rendere famoso la nostra città. E allora tra poco noi avremo, ve lo ricordo, qui nei nostri studi anche i ragazzi dell'Istituto Fermi di Francavilla Fontana, oggi ospiti del nostro centro di produzione televisivo, so che giornalisticamente sono stati affidati al collega Michele Iullaro, c'è anche Valentina Fanigliulo, quindi regia, ti chiedo ufficialmente anche di comunicarlo al collega Iullaro, se volete noi abbiamo tempo e voglia di ospitarvi, ma soprattutto di rendere questi ragazzi i protagonisti, visto che sono venuti qui per conoscere questa impresa locale, ma che è anche una televisione, oltre al lavoro di redazione, ve li facciamo vedere, li rendiamo protagonisti, così si rendono conto dal vivo di che si tratta quando si parla di una diretta televisiva. Ecco qui, perfetto, ci stiamo attrezzando per questo. E allora regia, facciamo così, nel frattempo recuperiamo quel servizio che invece ci presentava il G7, perché comunque ci serve a restituire a chi non avesse seguito tutta l'altra fila istituzionalmente una sintesi di quello che sta succedendo, guardate. Il momento centrale, cioè il G7 dei leader, approfitto per annunciare che sarà dal 13 al 15 giugno del 2024 in Puglia, nella Valle d'Itria a Borgo Ignazia. Partiamo da un chiarimento geografico. Borgo Ignazia non si trova in Valle d'Itria. La struttura di proprietà della famiglia Melpignano si trova invece a Savelletri di Fasano, a pochissimi minuti di distanza dal Mar Adriatico. È vero, oggi esiste una Valle d'Itria geografica, ovvero quella compresa nel triangolo che unisce i campanili delle chiese madri di Locorotondo, Cisternino e Martina Franca. E poi esiste una Valle d'Itria politica che va ben oltre questi confini e si spinge persino sino a Monopoli. Questione di brand. Nelle prossime settimane capiremo meglio quale sarà il contributo della Valle d'Itria all'organizzazione del prossimo G7. Intanto sappiamo che Borgo Ignazia sarà il centro più o meno di tutto. Si tratta di un resort nato da un'idea della famiglia Melpignano con l'obiettivo di dare vita a una location che diventasse il simbolo dell'ospitalità pugliese nel mondo. La struttura sorge in una posizione panoramica nella macchia mediterranea tra muri di pietra bianca e oliveti secolari, caratterizzata dall'architettura tradizionale pugliese con le iconiche costruzioni in calce bianca. Borgo Ignazia è una location meravigliosa e garantisce la possibilità di applicare elevati protocolli di sicurezza, preoccupazione principale nella mente di chi è stato chiamato a scegliere la location. Nel 2024 arriverà la presidenza italiana del G7 in cui chiaramente l'Africa e il tema delle migrazioni saranno centrali. La presidenza italiana del G7 si sviluppa lungo tutto l'anno con diverse iniziative dei vari ministeri. Il momento centrale sarà appunto quello del G7 dei leader. La vocazione all'incontro e al dialogo della Puglia diventa così il terreno ideale per il confronto tra i grandi del pianeta, scosso da tensioni geopolitiche minacciato dalla crisi climatica. Il periodo da segnare in calendario è la seconda metà del mese di giugno, dal 13 al 15, subito dopo le elezioni europee. E allora questa è una sintesi di quello che accadrà, Sindaco, non posso che dirle buon lavoro, mi ha già detto che si sta occupando soprattutto delle infrastrutture per arrivare fisicamente bene a Fasaro e in particolare al Borgo Ignazio. Grazie, grazie per l'augurio. Sicuramente in questi mesi ci rivedremo un po' più spesso per raccontarvi anche un po' quello che accade in questa marcia di avvicinamento che speriamo possa celebrare un momento importante anche nei contenuti oltre che nelle presenze. Noi come al solito saremo attenti a seguire le vicende, sappiamo anche che ci sono altri temi sul fuoco, potremmo dire, penso al dragaggio del porto di Isavelletri, ma non soltanto, quindi come al solito, oltre che nel Tg anche qui a Mattina Sud, con piacere, saremo pronti ad ospitarla. Grazie a Francesco Zaccaria, il primo cittadino di Fasano. E allora, cambiamo argomento perché come per annunciato oggi abbiamo la bella presenza di tanti giovani nei nostri studi, mi riferisco all'Istituto Fermi, Michele, dico bene, di Francavilla Fontana. Venite, venite qui. Intanto il collega Michele Giurlaro e poi i rappresentanti di Confindustria, Brindisi e anche proprio dell'Istituto. Li facciamo accomodare sulle nostre poltrone e facciamo tutto in diretta. Eccoci qua. Che succede Michele? Come sta andando intanto? Grazie a voi. A presto. Una giornata organizzata da Confindustria e che dà valore, come dire, al lavoro, all'impegno, allo sforzo delle piccole e medie imprese in Italia. Qui c'è il presidente di PMI Confindustria Brindisi, Mario Prato, che ringrazio. Grazie per aver accettato. Salve, buongiorno, grazie a voi. Sì, la giornata è in concomitanza con l'internazione. Tutte le territoriali svolgono questo evento dove portano le scuole all'interno delle aziende. Si sa che in Italia il 95% delle aziende è fatto da PMI, quindi il motore imprenditoriale italiano è soprattutto costituito da PMI e quindi in questa giornata e nelle altre iniziative collegate a questa giornata vogliamo far vedere ai ragazzi che si apprestano ad uscire dalla scuola al primo ciclo di studi superiore, al primo ciclo di scuole superiori, praticamente a quello che è il panorama del territorio, il panorama che gli aspetta una volta diplomati. Di fatto si studia per lavorare, no Michele? Si dovrebbe, non è così scontato, non è così immediato il passaggio. Quindi cosa abbiamo fatto in questa giornata? Su impeto di PMI Confindustria abbiamo invitato una scuola del territorio, una scuola superiore del territorio qui in redazione, qui nei nostri studi. La scelta è ricaduta sul Fermi, l'istituto tecnologico che risiede a Francavilla Fontana che è unanimamente riconosciuto come eccellenza non solo provinciale Gianmarco ma in tutta la regione, una sorta di fiore all'occhiello per l'offerta formativa regionale e provinciale. Loro hanno accettato, con noi qui c'è la preside Beatrice Monopoli mentre i ragazzi sono invece con Valentina Fanigliullo nella sala conf... A spazzo per il nostro centro... No, 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 stanno tenendo una lezione magistralis della nostra Valentina Fanigliullo poi vi faremo vedere anche qualche immagine. Ma io vorrei ringraziare Beatrice Monopoli, la dirigente del Fermi che ha accettato il nostro invito. Con quali aspettative e con quali paure? No, abbiamo accettato ben volentieri l'invito perché comunque l'incontro insomma con le aziende per noi è fondamentale. Da quest'anno tra l'altro prende l'infa, l'orientamento che è sempre stato importante ma il Ministero ha dato ulteriore importanza a questo aspetto che ritengo debba condurre poi gli studenti a fare le loro scelte. Quindi l'incontro, insomma, implementare sia la conoscenza del panorama aziendale nazionale ma soprattutto quello locale. Quindi l'incontro con le piccole aziende, con le aziende del territorio è importante perché il nostro istituto dà l'accesso direttamente al mondo del lavoro quindi i nostri periti lavorano nei vari settori che sono il settore meccanico, il settore energia, informatica, costruzione aeronautica, elettronica, automazione, elettrotecnica. Quindi insomma sono settori di forte interesse da parte delle aziende e oggi sono coinvolti i ragazzi del quinto anno quindi una rappresentanza di tutte le classi e di tutti gli indirizzi il tema è la libertà legato anche al discorso del lavoro. Quindi insomma i ragazzi hanno accolto con piacere questa possibilità. Sono soddisfatti, sono contenti, curiosi? Sì, sì, cerchiamo di simulare le loro curiosità attraverso le esperienze ovviamente anche di vita l'incontro con le aziende, è un'esperienza diversa da quella che si passa tutti i giorni tra i banchi e quindi diciamo sono felici di questa nuova esperienza insomma. Per loro penso sia la prima volta di trovarsi in televisione. Quindi insomma sicuramente curiosità. Io non so se il nostro Michele Marchitelli ha recuperato le immagini mentre Valentina appunto tiene questa lezione, sta intrattenendo i ragazzi. Michele ma tra poco li facciamo venire qui qualcuno, lo so che non eri in programma e che sono tanti, però qualcuno, forse sono già pronti mi dicono dietro la porta, è vero? Vediamo, vediamo. Vediamo, invito i nostri autori ad aprire le porte all'ora dello studio perché se ci sono noi li facciamo entrare subito. Vediamo che cosa accade. Michele, eccoli qua, sono già arrivati, ma siete velocissimi. Vedi Michele, questa è la velocità anche dell'informazione. Buongiorno ragazzi, benvenuti. Prego, prego, venite al centro. Una piccola rappresentanza di tanti ragazzi. Preside, quanti sono più o meno questa mattina? Abbiamo detto una rappresentanza di tutte le quinte classi, quindi parecchi immagino, una cinquantina almeno? Sì, sì, circa 50 ragazzi. Circa 50 ragazzi. Michele, a te. Andiamo a conoscervi questi ragazzi, che ci fate qui oggi? Allora, oggi noi siamo qui per l'incontro del PMI, diciamo l'incontro per le piccole e le medie imprese e il tema di quest'anno è la libertà, soprattutto dal punto di vista lavorativo, perché vediamo così, cerchiamo di sfruttare così questo tema per cercare di migliorare sempre di più questo mondo lavorativo. Voi vi sentite liberi, tu ti senti libero come studente, come giovane, come futuro lavoratore? La libertà è un concetto che mi appartiene a tutti gli esseri umani da quando sono nati, quindi è un concetto che poi si va a strutturare in base alla vita di ognuno di noi e che si va a differenziare in base all'esperienza, quindi personalmente mi ritengo libero e mi ritengo anche fortunato ad essere libero in quanto mi rendo conto della difficoltà che vivono altre persone in altre situazioni. Tu ti senti libero? Diciamo di sì, secondo me la libertà è un fattore prettamente personale, ogni persona si sente libero a modo suo, sicuramente ritengo di essere fortunato rispetto a determinate persone che non hanno la nostra libertà, noi diamo per scontate molte cose, quando in realtà niente è dovuto. Quindi sicuramente sì, mi sento libero sia di esprimermi sia di essere diciamo me stesso in una società che comunque mi dà la possibilità di essere appunto libero, di fare quello che più mi piace, che meglio preferisco. I ragazzi si sentono liberi eppure i ragazzi e le ragazze evidentemente sanno che questa libertà va difesa con orgoglio. Sì, secondo me sì, perché siamo tutti liberi fondamentalmente, però ci sono alcuni magari che non hanno le stesse... Soprattutto le ragazze che purtroppo ancora oggi in altre parti del pianeta sono costrette ad un vero, ad una... C'è ancora molte differenze tra maschi e femmine, oppure tra chi è più ricco e più povere, insomma. Secondo me bisogna lottare per questa libertà che abbiamo. Lottare per la libertà, mai darla per scontata, viene un po' più avanti, che ci dici tu? Infatti, secondo me la libertà, soprattutto nelle donne, magari in qualche parte del mondo, non è ancora visibile. Quindi io mi ritengo particolarmente fortunata di essere nata in Italia, perché ci sono certe ragazze, tipo le donne iraniane, che loro non possiedono alcun tipo di libertà e ogni giorno lottano. Ogni giorno c'è chi lotta, ogni giorno c'è chi al mondo lotta per rivendicare con forza questa libertà. Tu che ci dici, cosa ti aspetti di percepire oggi? Imparerai qualcosa? Sì, sicuramente imparerò molto e infatti sono molto felice di essere qui. Sono venuta qui appunto con l'idea che la libertà è molto importante, come stavamo dicendo anche prima, come hanno detto i miei compagni e le mie compagne. Anche in altre parti del mondo dovremmo essere tutti liberi, anche le donne, mi dispiace molto infatti per loro. E spero che arriveremo ad avere tutta la libertà, ad esempio io senza libertà non mi sento viva, non riuscirò a vivere, per questo mettendomi nei panni delle altre donne appunto mi viene molto malinconie. Anche di parlare, no? Non è così scontato. L'articolo 21 famoso, no? La libertà ad esprimersi. Sì, di esprimersi. Intanto Michele, stiamo vedendo le immagini che la nostra truppa ha realizzato proprio in vostra compagnia, nella nostra sala conferenza. Ecco qui la nostra Valentina Fani, io lo ceri anche tu a raccontare ai ragazzi questo mestiere così particolare e complicato, pieno di insidie anche, dove bisogna raccontare le notizie, ma rispettando sempre tutti e anche delle regole molto precise che sforzano nel penale, poi diciamolo. Lo ricordavo ai ragazzi, la libertà è un diritto, ma è un diritto che viene compresso, cioè non è assoluto, non è totale, bisogna rispettare alcune cose. Nel nostro caso la notizia deve essere vera, deve essere pertinente, deve essere continente, dobbiamo rispettare chiaramente lo stesso fatto che andiamo a raccontare e dobbiamo rispettare i protagonisti poi di quel fatto. In generale, noi giornalisti dobbiamo sempre ricordarci di rispettare la nostra professione. Tu sei una studentessa, qual è la tua libertà oggi? La mia libertà appunto è il pensiero, ma anche la libertà comunque di poter esprimermi e anche comunque di poter, posso fare comunque quello che voglio, posso scegliere di fare il lavoro. Cosa vuoi fare tu da grande? Allora io vorrei fare la psicologa, però anche grafica web design, diciamo che ancora non ho un'idea precisa. Potresti mescolare insieme le due cose, chissà, e magari inventare una nuova professione. Sì, infatti. Lo auguriamo. Può essere un'idea. C'è un'ultima ragazza, un po' timida, la vedo, vieni qui. Non ti preoccupare. Come ti chiami? Erito. Che vuoi fare da grande? Non lo so. Lo scopriremo oggi. Speriamo. Speriamo. Chissà, Michele, che non le hai dato un'idea raccontandogli del tuo lavoro, raccontandogli del tuo lavoro, no? Chissà, chissà. A noi farebbe piacere. Io penso che ogni lavoro abbia delle peculiarità, abbia delle bellezze. Ogni giorno ci sono le imprese, gli imprenditori, i docenti, i dirigenti, i professori. Ogni giorno ci sono i giornalisti. Ogni giorno c'è il panettiere, il pilota di Formula 1. Io volevo fare il pilota della Formula 1, ma insomma non mi è riuscito. Mi è andata male, Michele. Tu volevi fare l'astronauta. E io pure, mi è andata male. La cosa bella è che nel 2023 dobbiamo rivendicare con forza, ci dobbiamo attaccare a quel concetto, anche da padri, da madri, che ognuno, un giorno, possa fare quello che vuole fare, possa diventare quello che vuole fare. E farlo anche come vuole farlo, no? Comunque fammi dire una cosa giusto per concludere e ringraziarvi di questo momento. Chiaramente stavamo scherzando, sia io che Michele abbiamo avuto questa malsana idea del giornalismo, ossia subito da giovanissimi. Quindi non è stato un ripiego, l'abbiamo voluto. E fammi anche ringraziare, i nostri telespettatori lo sanno, odio le sbancerie, però voglio ringraziare, l'ho visto qualche istante fa il nostro redditore Domenico Distante che vi ha accompagnato in questa passeggiata. Poteva stare nel suo studio a fare il suo lavoro, invece è venuto, voleva essere presente con i ragazzi, salutare non soltanto preside e rappresentante di Confindustria, ma anche questi ragazzi, parlarci e entrare a confronto con loro. D'altronde un imprenditore più che altri sa quanto è importante spingere i ragazzi, motivarli, farli lavorare bene. Assolutamente sì. Lato psicologico. L'editore che è venuto ha salutato i ragazzi e io l'ho presentato come colui che ci permette poi di essere liberi, di poter fare il nostro lavoro, il nostro mestiere in maniera libera. E questa è una cosa importante, fondamentale. E' mai scontata. E' la cosa più bella per un giornalista, noi siamo liberi di fare il nostro lavoro e questo è un diritto così prezioso che noi lo ringrazieremo sempre, ringraziamo lui chiaramente. E senza nemmeno una deriva politica, che in alcuni casi è anche legittima, però noi siamo slegati, grazie a Dio da questo. Rompiamo le scatole a tutti, grazie mille. In ugual misura. Grazie a tutti. Grazie a te Michele, alla collega Valentina, ma anche ai nostri ospiti di oggi. Facciamo così, regia, visto che siamo proprio in orario di pubblicità, ci prendiamo qualche istante di pausa, permettiamo ai ragazzi di lasciare allo studio e tornare al loro giro nel nostro centro di produzione televisiva. Torneremo tra poco con tanti temi, intanto torneremo a Bari con la protesta che si sta svolgendo in piazza tra CGL e Will, le voci dei protagonisti e poi gli appuntamenti del weekend in collegamento con Radio Antenna Sud. E' una notizia particolare, una storia che abbiamo raccolto per voi in diretta da Brindisi, Anna Saponaro con i monaci buddhisti che sono in pellegrinaggio proprio nella nostra Puglia. Tra poco. Torniamo in diretta con Mattina Sud, siamo alla terza parte, tra poco ci collegheremo con Brindisi, la nostra Anna Saponaro ci farà ascoltare la voce dei monaci buddhisti in pellegrinaggio nella nostra Puglia. Ma siamo pronti anche a collegarci con Radio Antenna Sud dove è pronta la nostra Claudia Turba a raccontarci in diretta in questo scambio Radio TV gli appuntamenti più belli e consigliati da noi proprio per il vostro weekend. Anzi, se Claudia è pronta io andrei subito da lei perché so che sta arrivando proprio il punto della sua trasmissione in cui si dedica ai appuntamenti. Ecco la Claudia Turba, buongiorno Claudia, come va? Che cosa ti stai raccontando di bello in radio questa mattina? Ci chiamate per l'appunto Gnostre che servono da cornice a questa festa. Ecco qui, il mattino di Radio Antenna Sud. C'è in collegamento, anzi sono io in collegamento con Gianmarco, buongiorno. Buongiorno a te Claudia. Allora, un weekend pieno di appuntamenti non soltanto nei luoghi a te vicini, noi abbiamo una bella radio, nella piazza più bella della città degli imperiali, Francavilla Fontana, Mada, Nord a Sud della Puglia, del Tacco e dello Stivale, tante cose belle da fare insieme. Finalmente arriva il freschetto e ci possiamo mettere un bel giaccone e passeggiare per i nostri vicoli, sempre affascinanti. Almeno io sono così, Claudia, non lo so, mi piacciono queste cose, forse un po' da vecchio, però mi piacciono. E allora sei nel posto giusto, perché stavo proprio chiacchierando ora con i nostri radioascoltatori relativamente ad un appuntamento che si inaugura domani, quindi sabato e domenica, sabato 18 e domenica 19 di novembre, a Noci, che si chiama per l'appunto Bacco nelle Gnostre. Ovviamente grande protagonista è il centro storico bellissimo della città di Noci, ma soprattutto il cibo. Dove si mangia Gianmarco ci sono io, dove si può bere del buon vino. Vengo, andiamo insieme. Riscaldiamo un po', è perfetto. Ci sto, ci sto, ma vorrei anche invitarti ad un evento, visto che oggi hai avuto ospite in studio, il sindaco di Fasana, avete parlato di un appuntamento che si interrà nel breve periodo relativamente. Anche se sei in diretta con il tuo programma di radio. A capire a che punto siete. Ci tieni sotto controllo. Ogni tanto vi spio, vi spio. Ma anche noi ti ascoltiamo, e io in auto, c'è sempre la scritta radio antenna subito, perché mi piace la musica, mi piace la tua voce, e poi sei anche mia amica, quindi. Eh no, altrimenti saresti già licenziato Gianmarco. Ah, proprio così? Che lo scriviamo nel contratto. Alla faccia della giornata della gentilezza di qualche giorno fa. No, eh no, cioè poi la gentilezza è un conto, gli obblighi sono altra cosa. Tornando a noi Gianmarco, ti dicevo, proprio parlando di Fasano, in questo fine settimana, domani, a partire dalle ore 19.30, ci sarà la cerimonia di accensione di queste luminarie. La città di Fasano, infatti, diventerà un po' il confronto, magari può essere infelice, ma la più famosa Salerno, città delle luminarie, le abbiamo portate qui in Puglia, perché si inaugura il Natale. Ci saranno queste grandi sculture di luci, tutte a tema animalesco, perché quest'anno si festeggiano anche i 50 anni del parco zoologico, il più grande d'Italia, che è lo zoo Safari di Fasano, e in occasione di questa grande festa, di questa grande celebrazione, si è voluto per l'appunto regalare alla città questo bel momento. Ma l'intero progetto, che è la cosa poi più bella, a parte sicuramente la questione del Natale, il poter condividere con i propri familiari questo momento, è che l'iniziativa ha un obiettivo di accessibilità. Anche le luminarie diventano inclusive, grazie a dei quadri tattili, delle opere proiettate. Ci saranno dei modellini 3D, che andranno a riprodurre in scala le sculture luminose degli animali, e quindi permetterà a chiunque, anche agli ipovedenti, di poter apprezzare e vivere a pieno questo bel momento. Quindi domani alle 18.30 andiamo a Fasano, e poi via per noci, Gianmarco. Luminarie per tutti, possiamo riassumere così in un titolo volendo, noi abbiamo un po' sempre questa mania giornalistica di morbosa sintesi. Poi mi piace questo tour che è programmato, vedete, voi che dite che la televisione non vi consiglia, invece no, vedete c'è Claudia Turba che vi consiglia, addirittura vi ha fatto il tour. Prima Fasano, luminarie accessibili, quindi veramente per tutti. Partiamo domani pomeriggio e via. E poi noci, bacconi e legnosti, un evento in realtà famosissimo, conosciutissimo. E poi che cos'altro c'è di bello? Hai per caso qualche altra idea, qualche altra raccomandazione? Perché ormai sei un'istituzione del weekend per chi si ascolta. Sì, perché noi al venerdì, all'interno del mattino di Radio Antena Sud, dedichiamo le due ore della trasmissione agli appuntamenti del fine settimana. Domenica torna in Piazza San Giorgio a Melpignano l'edizione autunnale del Mercato del Giusto, dove sì c'è il gusto ma si sceglie in maniera oculata, perché cittadini ed enti tutti insieme promuovono le filiere corte, quindi il consumo alimentare consapevole, oltre alla diffusione di nuove pratiche, e ci stanno, quelle ci devono essere per forza, le tradizioni sul territorio. Si parte già al mattino, quindi se domenica mattina non ha impegni, alle 10.30 c'è l'apertura di questo mercato, poi c'è un laboratorio dedicato ai più piccoli, e fino alle ore 14.30 ci sarà la possibilità di poter partecipare a questo evento e nell'evento, perché poi ci sono dei live, ci sono delle presentazioni, ci sono un sacco di cose, quindi potremmo anche conoscere la città di Melpignano, separata dalla notte della Taranta, ma in versione autunnale. E questo consiglio ci piace molto, perché in effetti poi che cosa succede? Quando c'è un grande evento in una cittadina, in un paese, viene riconosciuto questo soltanto per il grande evento, invece Melpignano è anche molto di più, come ci suggerivi. Mi piace molto questa idea. Se non hai altro, io mi riprendo la linea e mi preparo a questo weekend, a questo punto. Certo, mi raccomando, vengo già da domani pomeriggio, zaino in spalla e giriamo per la Puglia. Grazie mille a te e a tutti i telespettatori di Antena Sud. A te, come sempre, Claudia, sei preziosa per tutti gli appuntamenti, le curiosità, le bellezze di Puglia per il weekend, ma non soltanto. E allora, adesso ci prepariamo invece a collegarci con Brindisi, dove la nostra Anna Saponaro ha scovato per voi dei monaci buddisti in pellegrinaggio nella nostra terra di Puglia. Anna, buongiorno. Eccoci qui Gianmarco, un saluto a te, un saluto ai nostri telespettatori. Lo capisci già dall'abito. Oggi parliamo di religione, filosofia, ma anche sostanzialmente di soluzioni pratiche per la vita di tutti i giorni. Lo facciamo con i nostri graditi ospiti, che tra pochissimo presenterò a te e ai nostri telespettatori, due monaci buddisti che sono in pellegrinaggio nella nostra bella Puglia. Ma io vorrei introdurre l'argomento e soprattutto contestualizzarlo con Salvatore Intiglietta, che è presidente di un'associazione che opera sul territorio brindisino. Allora, Salvatore, grazie intanto per averci consentito di fare un approfondimento su questo tema. Quali tipi di iniziative voi avete organizzato in questi giorni a Brindisi e soprattutto con quali finalità? L'Officina Sociale APS è una delle varie associazioni a livello italiano hanno organizzato un itinerario, se vogliamo, insieme ai monaci per quanto riguarda il cammino che stanno facendo e il messaggio di pace, il messaggio di comprensione della realtà, delle cose, della sofferenza che noi viviamo ogni giorno, se vogliamo. Infatti una delle attività che abbiamo organizzato a Brindisi è quella di un incontro con l'associazione Io Donna, che è legata alla violenza appunto sulle donne, insieme al vicario del vescovo, insieme a Don Giuseppe che è un prete di Brindisi. Un'altra attività che abbiamo organizzato sempre a Brindisi è quella di un incontro che faremo presso il CSV, presso il centro anziani di Brindisi in cui si andranno a incontrare le varie associazioni del terzo settore in particolar modo associazioni che si occupano di situazioni di difficoltà nelle carceri, soprattutto per quanto riguarda i bambini che vanno a incontrare i genitori. Ecco, intanto fra i protagonisti c'è anche Empty Cloud. Vogliamo spiegare di che cosa si tratta e come opera? Empty Cloud è un nome che identifica il monastero, che i monaci, appunto Agliesone e Bante Suddato che sono qui, hanno realizzato New Jersey in America ed è un'idea nel quale si va a sviluppare un'idea di buddismo non settario. Di conseguenza varie anche filosofie buddiste, varie tradizioni diverse possono trovare uno spazio all'interno di questo monastero e poter esprimere le loro prate, i loro insegnamenti. In particolar modo Agliesone e Bante Suddato sono dediti molto a pellegrinaggio, quindi già ci è stato quest'estate e mesi precedenti pellegrinaggi reali, cioè fatti proprio in chilometri e chilometri fatti per vari paesi e varie città. Questo dà respiro, fa capire qual è il significato, qual è il senso che loro danno a questo tipo di tradizione, cioè essere in contatto con le persone. Salvatore, tu intanto ovviamente pratichi il buddismo. Avete incontrato, incontrerete questi giorni, persone che a Brindisi hanno fatto la tua stessa scelta. Quanti siete? Ma sinceramente non so dire quanti siamo. La pratica del buddismo è una pratica di tutta personale, di conseguenza anche quello che viene spiegato, quello che viene espresso, diciamo, è un qualcosa che è legato alle vite di ogni giorno e quindi può essere utile a tutti. È un esempio appunto di tutte le varie attività che abbiamo fatto sul territorio pugliese, non solo in cui non si incontrano solo buddissimi, ma si incontra chiunque è interessato ad ascoltare un modo di pensare diverso. Allora, voi mi perdonerete se io non sono in grado, si faccia un po' più avanti, grazie a favore di telecamera, di ripetere il vostro nome. Salvatore ha una certa dimestichezza, io no, quindi vi chiedo un aiuto. Lei intanto si chiama? Aya Soma. Ed è una dei due monaci sostanzialmente che pratica questo pellegrinaggio nel nostro territorio. Ma intanto, che cos'è il buddismo? E che differenza c'è fra la sfumatura religiosa e quella un po' filosofica? Ragione per cui questa religione è veramente molto affascinante. Sì, grazie per la domanda. Allora, innanzitutto lui è Bante Sudaso, quindi dico il suo nome per lui. Siamo entrambi monaci buddhisti, il che significa semplicemente che seguiamo gli insegnamenti del Buddha. Il Buddha era questo insegnante spirituale che 2500 anni fa nacque in India e condivise questi insegnamenti che sono, diciamo, molto pratici. Hanno a che fare con l'identificazione della sofferenza, di come si manifesta la sofferenza, della causa della sofferenza e ci insegna come arrivare alla completa eliminazione della sofferenza. Quindi quando usiamo termini come religione o come filosofia, dipende sempre dalla definizione di questi termini. Quindi se il buddismo è effettivamente una religione o una filosofia, diciamo, è un po' un gioco di parole. Quello che è, essenzialmente, è una pratica per l'eliminazione della sofferenza. E quindi ci sono tantissime persone che possono essere, diciamo, magari identificarsi in religioni diverse dal buddismo e possono praticare il buddismo. Ecco, a proposito di eliminazione della sofferenza, voi anche con il vostro pellegrinaggio siete riusciti a raggiungere questo obiettivo? Allora, è una pratica. Quando parliamo di buddismo parliamo appunto di pratica che ovviamente porta a una destinazione, però fondamentalmente quello che è importante focalizzarsi, su cui ci vogliamo focalizzare, essenzialmente la pratica. Quindi il percorso. Sì, il percorso, esatto. E noi apparteniamo a un ordine mendicante, quindi facciamo voti di povertà e ci muoviamo in modo molto semplice. O a piedi, oppure se qualcuno ci invita in un posto preciso e noi abbiamo il tempo, ci sono le condizioni giuste essenzialmente per accettare l'invito, allora ci spostiamo. Quindi in questo caso è arrivato l'invito di Salvatore e diciamo le condizioni ci sono state e noi ci siamo avviati. Mentre il suo compagno è americano, fra pochissimo, insomma ascolteremo anche il compagno di viaggio, il suo compagno di viaggio. Lei è italiana, per metà pugliese. Di dove? Sì, mio papà era di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. E quindi lei è nata cattolica o è nata buddista? Sono nata cattolica. E poi a che punto della sua vita ha deciso di intraprendere questo percorso e perché? Diciamo seriamente l'ho intrapreso otto anni fa negli Stati Uniti semplicemente perché è una pratica appunto che porta alla felicità. Quindi ho iniziato a praticarlo prima e sono diventata sempre più felice e quindi poi a un certo punto l'appetito viene mangiando. Più uno mangia felicità, più vuole mangiare felicità. E la sua famiglia cosa dice? All'inizio non erano molto contenti, soprattutto per la scelta magari di tagliare i capelli un pochino troppo corti oppure vestirmi di stracci, però hanno visto man mano che sto diventando sempre più una persona migliore o meno peggiore, diciamo, sempre più felice e quindi diciamo sono più contenti. Come trascorrete a questo punto la giornata? Cioè voi vi alzate al mattino, iniziate il vostro cammino, fate diverse tappe e portate la felicità poi sostanzialmente nei territori nei quali vi fermate? Sì, è una pratica di rinuncia. Allora il cuore della pratica buddista in realtà è la rinuncia e quindi è questo messaggio un po' controintuitivo, soprattutto di questi tempi in cui siamo tartassati di felicità uguale, accumulare sempre di più, comprare sempre di più, avere più relazione, avere più, 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 più. Invece l'idea della felicità come rinuncia? Sì, della felicità come rinuncia. Quindi più lasciamo andare, più siamo felici. E quindi quando noi prendiamo questo voto di povertà iniziamo a camminare generalmente senza meta e senza sapere dove dormiremo, se avremo del cibo, senza sicurezza essenzialmente. Perché noi non accettiamo soldi, ne usiamo soldi, quindi viviamo interamente di offerte. E questo è, devo dire, una pratica bellissima perché poi uno si nutre non solo di cibo ma si nutre proprio della generosità, di questi bellissimi stati d'animo, stati mentali che vediamo nelle persone che spontaneamente, soprattutto i cattolici devo dire, in realtà i cattolici sono più felici di vedere i monaci buddisti mendicanti proprio perché questi valori di rinuncia sono anche molto presenti nel cattolicesimo. E soprattutto non sono soltanto professati ma sono praticati perché si vede. Lei quando si è avvicinato a questa religione? Se riusciamo a fare spazio facciamo in questo modo. Quale ti approcchi a questa religione? Perché? Quando o perché? 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 Quando anche? E anche quando? To understand my experience, to understand the nature of my mind, and more than anything else, to be truly happy. So at the time I was a teenager, and I was experiencing a lot of depression and confusion, and life seemed very meaningless and pointless. And I wanted to understand why. Why I was not happy, and what the nature of happiness was. And most importantly, how to attain both happiness and wisdom in this life. Aveva bisogno sostanzialmente di capire la natura della sua mente, mi pare di aver capito. Sì, essenzialmente magari da adolescente è successo che aveva dei problemi di depressione, e quindi ha iniziato questa ricerca per la felicità, fondamentalmente. E a Brindisi che tipo di accoglienza voi avete ricevuto? Ma devo dire, la stessa accoglienza di tutti i posti in cui abbiamo messo piede in Puglia. Quindi le persone sono estremamente gentili, generose, accoglienti, e molto felici appunto di praticare con noi, o di offrirci qualcosa da mangiare. Insomma, ogni giorno c'è questo miracolo che mangiamo sempre. Sì, anche perché siete, insomma, siete messi in un male, ecco, voglio dire, evidentemente. Non siamo pelle e ossa, e grazie alla generosità appunto, a questo nutrimento di questo bellissimo buon cuore che c'è nelle persone che incontriamo. Alla luce di quello che accade nel mondo, tante cose negative, tante cose che fanno stare male in primis la guerra. Voi oggi che tipo di messaggio sentite di lasciare agli altri, di consegnare, e soprattutto come ne parlate fra di voi di quanto accade nel mondo? Allora, nel buddismo abbiamo, diciamo, c'è una grande enfasi sul iniziare a occuparsi di creare la pace dove è più accessibile, quindi noi stessi. Non possiamo controllare il mondo, però possiamo controllare almeno una persona. Però il mondo è pieno di noi. Esatto, ma quando iniziamo a cambiare almeno una persona del mondo, iniziamo a dare questo buon esempio agli altri. Quindi, cambiando noi stessi, cambiamo il mondo. E cambiando anche il mondo, nel senso, se ci occupiamo, di cercare non di cambiare proprio il mondo, nel senso, il globo, ma anche il nostro piccolo quartiere, o anche, diciamo, portare un po' di felicità al nostro vicino, o anche al nostro figlio, anche al nostro gatto, magari, al nostro cane. Già, quello è un qualcosa di incredibile, che offriamo questo dono di pace al mondo. Però se ci soffermiamo troppo nel osservare, diciamo, la bruttezza che c'è nel mondo, anche quello è un po' incompleto come visione, perché non è solo brutto, non è solo bello, ma è un mix. E quindi la domanda più interessante, secondo me, è quello che contributo possiamo dare, no? Possiamo... E quindi che contributo potete dare? Visto che non mi è venuta di fare questa domanda interessante, se l'è fatta da sola. Possiamo dare un contributo di pace, possiamo dare un contributo di generosità, di gentilezza, di cordialità. E quindi lì, in quel momento, no? Invece di affliggerci e quindi dare un altro contributo di sofferenza ad un mondo che già soffre, diamo un contributo di pace, di sollievo. Grazie ai nostri monaci, grazie per aver consentito ad Antenna Sud di raccogliere la vostra testimonianza. Grazie, Salvatore. E che dire, buon cammino. Continuate a trovare la vostra felicità e a portare nel mondo il vostro contributo di pace. Quindi la prossima tappa è ignota, resta ignota. Camminando si vedrà? Vedremo. Buon viaggio. Gianmarco, a te la linea da Brindisi è tutto. Grazie, grazie Anna, grazie a te e ai tuoi ospiti. Veramente una storia interessante. Vi abbiamo proposto qualcosa nel Tg, ma oggi volevamo approfondire veramente con questi ospiti così speciali, inusuali, se volete, particolari, questi temi che talvolta sfuggono alla quotidianità e alla conoscenza di tutti noi. Adesso invece cambiamo argomento e ci occupiamo di sanità. Per farlo ci spostiamo a nord della Puglia perché è stata inaugurata a Manfredonia la prima comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica della provincia di Foggia in una forma rinnovata e potenziata, soprattutto sotto il punto di vista assistenziale. È dedicata specificamente a pazienti psichiatrici autori di reato. La struttura vanta 20 posti letto e operativa fino all'attivazione della residenza per le esecuzioni delle misure di sicurezza detentive di Accadia, le REMS, che sono finalizzate proprio al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, come saprete. Ci spiega meglio e di più la nostra Antonella Davola. Si tratta della prima comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica della provincia di Foggia, potenziata sotto il profilo assistenziale dedicata a pazienti psichiatrici autori di reato ed è stata inaugurata nelle scorse ore a Manfredonia, nella frazione Montagna, in località Ruggiano. La struttura, dotata di 20 posti letto, sarà operativa dalle prossime ore sino all'attivazione della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive di Accadia, finalizzata al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. All'inaugurazione è presente tra gli altri anche il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, che definisce questa nuova realtà un passo di civiltà che sarà utile a tutta la provincia. La sanità penitenziaria è un pezzo strategico della necessità di assicurare sul territorio i servizi sanitari. La CRAP, la comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica, potenziata perché è dedicata ad autori di reato, nell'emore dell'attivazione della REMS ad Accadia, è un pezzo strategico in provincia di Foggia dell'assistenza sanitaria all'interno di istituti che direttamente o indirettamente fanno riferimento al tema della giustizia. Oggi qui si inaugura un'alleanza fa pubblico e privato perché noi abbiamo selezionato con procedura di evidenza pubblica velocemente un gestore privato della struttura che è stata autorizzata, accreditata e contrattualizzata. La responsabilità sanitaria in Cava d'Asl Foggia e quindi c'è un modello di alleanza pubblico-privato in un settore strategico che merita molta attenzione per il quale siamo impegnati come Dipartimento di Salute Mentale, come distretto e come azienda territoriale. Beh, ve l'hanno messo in piedi una serie di laboratori tesi a recuperare ovviamente per quelli che hanno ancora dei margini diciamo di recupero da un punto di vista terapeutico. All'interno della struttura sono ospitati in primis un grandissimo laboratorio di cucito con delle macchine di ultima generazione per poter lavorare dei tessuti duri, del pellame e quindi li impegneremo in primis su questo laboratorio particolare. Poi ci saranno dei laboratori di pittura, teatro-terapia, abbiamo di fronte un maneggio per chi sarà in grado di poterlo fare fare faremo anche dei corsi di ipoterapia per loro. Ci sono una serie di attività che sono state già programmate a favore di queste persone svantaggiate. Il Consorzio Metropoli ha una storia ultraventennale di attenzione sull'assistenza a pazienti psichiatrici. Questa collaborazione con la Regione c'è da sempre perché solo un'interfaccia continua e costante può promuovere dei modellini efficienti e delle risposte di assistenza, di cure e riabilitazione a pazienti psichiatrici. Oggi parliamo di autori di reato ma già il modellino pugliese ci ha insegnato che una collaborazione tra pubblico e privato può essere una chiave vincente. Forse la Puglia ha da insegnare ad altre regioni che utilizzano esclusivamente il modellino privato perché dove si fondano professionalità e competenze il bilancio non può che essere positivo e si cerca di realizzare dei modelli secondo linee guida nazionali, protocolli nazionali assieme a collaborazioni con società scientifiche, università, enti di formazione e associazioni che possono racchiudere un po' la sintesi di modelli validamente comprovati. Una giornata speciale perché finalmente possiamo dare una risposta ai magistrati che nel loro lavoro hanno potuto accertare che alcuni autori di reato in realtà sono per vizio di mente completamente incapaci di intendere e di volere e quindi non è giusto sottoporli ad una sanzione, ad una pena ma debbano essere curati e ovviamente nel luogo di cura va gestita la loro residua o eventuale pericolosità. Quindi questo non è un carcere, è un reparto sanitario con delle misure di sicurezza particolarmente intense nei casi non frequentissimi che questi pazienti siano davvero pericolosi. Gli altri possono essere curati e gestiti in questi luoghi non tanto perché sono figure spaventose ma perché tendono a ripetere a causa del loro vizio di mente sempre lo stesso reato, cioè uno che ruba continuamente e alla fine rischia di arrivare qui. Quindi qui non vengono i serial killer come qualcuno teme, ma vengono quelle persone che vanno comunque gestite in questo contesto e per gestirle qui non ci sono secondini, non c'è acqua fredda, non ci sono le pompe di acqua ghiacciata, non ci sono gli schiaffi, i manganelli, qui ci sono dei medici, degli infermieri robusti perché è chiaro che questa cosa va gestita anche con una professionalità diversa da quella di un comune reparto e questo è un passo di civiltà, un passo di civiltà che si fa a Manfredonia dove solo qualche giorno fa abbiamo fatto una manifestazione contro la mafia e la mafia si combatte con la civiltà e questo è un passo di civiltà che quindi sarà utile a tutta la provincia. Insomma un passo in avanti per la sanità ma anche per la civiltà come diceva il governatore di Puglia Michele Milano. Bene, è tutto per questa puntata di Mattina Sud, io vi ringrazio, è stato davvero un piacere trascorrere questa mattinata insieme, noi come sempre ci rivediamo lunedì a partire dalle 9.30, per il momento vi auguro uno splendido weekend, arrivederci.